segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te alessandro buonasera buonasera e buonasera questa sera ho sentito un po di inesattezze nel senso che tutta questa situazione sarebbe estremamente semplice si tratta di fare soccorso in mare si tratta di fare qualcosa che è obbligatorio riconosciuto dal diritto internazionale dal diritto marittimo recepito dagli stati è un soccorso fatto in una zona in cui normalmente non ci sono testimoni e in una zona che è la frontiera più pericolosa del mondo ho sentito dire che siamo delle navi pirate mi permetto di correggere questa grave inesattezza facciamo quello che gli stati europei e non solo l'italia non fanno da tanto tempo italia meritoriamente con la guardia costiera la guardia di finanza fa un soccorso a ridosso dei suoi costi ma quello che succede in acqua internazionali quello che succede verso la libia quello che succede con i rispingimenti lo fanno tutti i giorni lei non può dire che non lo fanno tutti i giorni la marina militare italiana salva delle persone in mare tutti i giorni che io mando certo io e quindi non dita che non lo fanno io come italiano sono molto perché ma certo ma io come italiano no lei ha detto non lo fanno guardi guardi lo fanno tutti i giorni ma non si mettono d'accordo con i trafficanti di uomini che guadagnano fino a 10 mila euro a testa per imbarcare queste persone questa è la differenza salusti ho detto molto meritoriamente e io sono molto orgoglioso che l'italia faccia questo i nostri rapporti con la guardia costiera fino al 2018 erano di piena coordinazione quindi su questo discorso non mi prenda non mi prenda male quello che voglio dire che al di là delle coste si riascolti l'audio sicuramente registrata questa puntata ho detto molto meritoriamente quello che non succede invece è il soccorso in mezzo al mediterraneo al largo delle acque internazionali dove continuano a esserci vittime noi siamo una unità siamo un'ambulanza in una posizione in cui negli anni ci sono stati incidenti e continuano a esserci incidenti e questa accusa di essere in combutta con con gli scafisti per le partenze con i trafficanti bene è una cosa veramente grave che non sono le intercettazioni io ci passo non parlo di lei non parlo di lei ma ci sono inchieste giudiziarie che dimostrano e che ci sono accordi con gli scafisti dimostrare questo e che